Buongiorno e benvenuti alla decima edizione del nostro evento annuale. È il terzo anno che siamo in Borsa Italiana e il secondo anno che siamo in Virtuale. Dato il successo dell'anno scorso, ripetiamo la stessa esperienza. La decima edizione è un'edizione particolarmente importante per noi, per diversi motivi. Ma il primo e sostanziale è che abbiamo passato da i RepTrack Awards a Italy Reputation Day. Il motivo sottostante è che quest'anno non daremo premi particolari. Il motivo per il quale non diamo i premi e non pubblichiamo la classifica è perché abbiamo notato all'interno del nostro database che ci sono diverse dinamiche sia esterne di contesto sia all'interno di singole aziende che non è una fotografia veritiera andare a guardare i dati puntuali. Ma comunque ne parleremo approfonditamente nel corso dell'evento. Però certamente noi porteremo alcune best case andando a guardare il rating di queste aziende in modo continuativo nel corso dell'anno. Perché siamo passati a una misurazione all'interno di un database di dati puntuali nel mese di gennaio ad avere invece una continuità dal punto di vista del rating e della misurazione. Misuriamo oggi le aziende su base mensile e il motivo lo scopriremo appunto quando andremo a guardare i risultati di quest'anno. Prima di cominciare però mi fa piacere avere qua Raffaele Di Arusalmi amministratore delegato di Borsa Italiana per darci il benvenuto. Grazie Raffaele. Ciao Michele, grazie mille per l'invito e buongiorno a tutti. Grazie per essere qui oggi all'Italy Reputation Day 2021. È una giornata molto densa e interessante dove tratteremo questo tema della reputation che è un tema molto attuale e molto importante anche per i mercati finanziari e che sicuramente sta in qualche modo cambiando un po' lo scenario per tutti quelli che devono guardare alle aziende come investimento. Quindi vi auguro una buona giornata e spero che troverete la sede accogliente come sempre. Grazie. Grazie Raffaele, è sempre un piacere essere vostri ospiti. Ma entriamo nel cuore di quello di cui parleremo oggi. Nella prossima ora e mezza noi tratteremo di fatto quattro grandi aree tematiche. Molto velocemente parleremo delle evoluzioni che abbiamo fatto noi negli ultimi 12 mesi per poi entrare per andare a guardare quali sono stati gli effetti della pandemia sulla reputazione delle aziende nel mondo dal punto di vista dei macro trend. E questo lo coprirò io direttamente. Poi entreremo invece all'interno di un focus sull'Italia entrando in primis su quelli che sono stati gli effetti che la pandemia ha portato sui settori. E qua avremo la testimonianza di Dino Vorello, Vice President of the Reptruck Company EMEA. Buongiorno, buongiorno a tutti. Per poi andare a guardare quali sono invece gli effetti che la pandemia ha portato sulle persone che lavorano in azienda. Sappiamo bene che negli ultimi 12 mesi il lavoro e il modo di vivere delle persone è completamente cambiato. E quindi è importante andare a guardare come si sono comportate queste persone ma soprattutto che tipo di reazione hanno avuto a causa di questo cambio di paradigma. E qui avremo Sara Farjohn, Vice President Reptruck Company a livello EMEA che ci porterà all'interno del mondo delle persone. Buongiorno a tutti. Poi avremo due testimonianze. Una prima testimonianza sulla valenza della reputazione come indicatore per i mercati finanziari. Siamo in borsa e chi meglio di Raffaele Gerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana per raccontarci la sua prospettiva sul tema. E un secondo focus invece per andare a capire come le aziende si stanno muovendo per rendere la reputazione un impegno di tutti i dipendenti. Sappiamo bene ormai che non è soltanto il direttore della comunicazione attore principale nella costruzione di equiti ma è la responsabilità della totalità delle persone che operano all'interno. E su questo invece avremo Katia Riva, Chief Sustainability Officer di Atlantia che ci porterà la sua esperienza come professionista che da tanto tempo si occupa di queste tematiche. Chiuderemo poi con un flash su la reputazione di alcune aziende in Italia e di alcuni settori per andare a guardare alcuni best case per poi chiudere con la cassetta degli attrezzi. E quindi se le aziende devono portarsi a casa alcuni learning per vincere nella reputation economy del prossimo bienio, quali sono? E per questo avremo Alessandro Detto, Senior Vice President EMEA di Reptrek Company. Buongiorno anche da parte mia. Prima di entrare però all'interno del cuore della giornata e quindi andando a guardare gli effetti che la pandemia hanno avuto sulle aziende nel mondo e in Italia e chi si è distinto maggiormente in alcuni dei suoi aspetti, mi piacerebbe spendere due parole per andare a guardare le ultime evoluzioni che abbiamo fatto noi come azienda. L'anno scorso abbiamo parlato del rebranding, abbiamo rivisto il logo e il posizionamento, abbiamo visto che abbiamo rivisto la nostra purpose, il tagline e ovviamente tutta l'iconografia. Ci sono però alcune evidenze concrete che abbiamo portato avanti nell'ultimo anno e che hanno abbastanza segnato un punto di svolta. Il primo, abbiamo siglato diverse partnership con alcuni player specifici all'interno di mondi particolari. Il primo è il Naise, che ovviamente ci vede qua oggi in Borsa Italiana, più o meno il cappello è lo stesso, dove abbiamo fatto un accordo con loro per misurare le principali 250 aziende quotate allo standard del pors. Ovviamente questo ci permetterà di andare a guardare le implicazioni reputazionali e come queste giocano un ruolo sul titolo in Borsa. Non ci siamo fermati lì, abbiamo guardato insieme a Moody's tutto il tema legato all'ISG. Noi abbiamo costruito un nuovo algoritmo, tra poco ne parleremo. Abbiamo fatto un lavoro per andare a guardare qual è la differenza tra valutazioni ISG di realtà, quindi ciò che le aziende dichiarano, rispetto invece a ciò che i consumatori in giro per il mondo pensano. E questa è una nuova operazione che abbiamo fatto proprio per andare ad affrontare una delle tematiche più calde che oggi toccano le aziende. Terzo e non ultimo, insieme a Loiz, c'è tutto un lavoro che stiamo facendo per andare a valutare qual è il rischio reputazionale e come poter eventualmente costruire pacchetti assicurativi. Quindi l'evoluzione dietro al lavoro core che facciamo tutti i giorni sono moltissime e si riflettono anche all'interno delle soluzioni che oggi stiamo offrendo. Su questa slide noi troviamo il modello che tutti voi conoscete, perché l'abbiamo visto tante volte, i nostri sette driver che impattano sulla reputazione, ma in basso troviamo alcune cose nuove. Il primo troviamo il termine media. Da quest'anno abbiamo integrato il sentiment che emerge dai media e qual è l'influenza e l'impatto statistico che l'esposizione mediatica genera sulla reputazione di una company. Siamo forse il primo player che riesce a leggere in modo integrato queste due elementi e poter quindi predire quale sarà la reputazione domani in funzione di quella che è l'esposizione mediatica. Parlavo appunto di ESG, trovate ESG, abbiamo costruito un algoritmo nuovo, oggi ne vedremo alcune delle sue risultanze, per poi invece andare a fare un salto lato tecnologia. Abbiamo costruito una SaaS platform, oggi la piattaforma consente di guardare il rating delle aziende su base mensile, i dati sono evidentemente self-service, con all'interno tutto il nostro database per consentire tutta una serie di profondità di settori per avere evidentemente indicazioni di benchmarking. Bene, ma entriamo nel cuore di quelli che sono stati gli effetti della pandemia sulla reputazione delle aziende nel mondo. Prima di entrare nel merito degli effetti veri e propri andiamo però ad analizzare un secondo come si costruisce la reputazione delle aziende e che cosa la influenza. Allora, qua troviamo due cerchi concentrici dove all'interno vediamo quelli che sono alcuni fenomeni che cambiano la strategia aziendale, che può essere un cambio in amministratore delegato, può essere una quotazione in borsa, come può essere un cambiamento organizzativo. Sul cerchio esterno invece stiamo guardando una serie di forze esterne. Sappiamo bene che negli ultimi 4-5 anni ci sono stati diversi trend che hanno caratterizzato il mondo in cui viviamo e questi trend con la pandemia probabilmente hanno subito un certo tipo di accelerazione e oggi andremo a guardare qual è stata questa accelerazione e come ha influito. Per andare a guardare questo aspetto ci sono sei trend sul quale vorrei soffermarmi perché andremo a guardare alcuni effetti che questi trend hanno avuto. Quindi qua troviamo il concetto della stakeholder economy che è stato ampiamente dibattuto negli ultimi anni come la Digital Revolution la quarta rivoluzione industriale se ne è parlato per la prima volta al World Economic Forum nel 2019 l'employed well-being la diversity il tema dell'inclusione sono tematiche assolutamente caldissime negli ultimi 12 mesi insieme al tema del climate change della sostenibilità come anche l'ethics e il humanism quindi diventare più umani nel modo con il quale ci si comporta sia all'interno sia all'esterno evidentemente poi il fatto del localismo rispetto alla globalizzazione sempre di più oggi si parla che la reputazione è local for local e ciò che interessa e ciò che è necessario in Italia può essere diverso da ciò che è necessario in altri paesi del mondo ma se noi andiamo a guardare questi sei trend e andiamo ad analizzare l'effetto che sta avendo che ha avuto il Covid su questi fenomeni a me piace raffigurarlo con questa immagine l'immagine non è altro che l'effetto di quello che viene definito un inflection point ovviamente in modo assolutamente ironico abbiamo messo l'immagine del Covid come l'immagine di quel punto di flessione e che cos'è che ha generato il Covid su quei sei trend che abbiamo visto prima hanno accelerato i sei trend in modo assolutamente drastico ma andiamo a guardare alcuni degli effetti il primo la digital revolution oggi è assolutamente parte integrante del modo in cui viviamo c'è un dato interessante che è stato citato dal digital commerce 360 che è un ente negli Stati Uniti dove attraverso tutta una serie di calcoli ha dichiarato che la digital revolution è stata accelerata di 5 anni negli ultimi 12 mesi proprio a causa dell'effetto del Covid sulla destra infatti troviamo quello che è l'andamento di borsa degli ultimi 12 mesi andando a paragonare l'indicatore del Nasdaq rispetto ad altri indicatori il Nasdaq è la riga blu che vedete non a caso la riga del Nasdaq sta crescendo molto più velocemente rispetto alle altre se questa è l'evidenza concreta qual è stata l'impatto dal punto di vista reputazionale di questa accelerazione abbiamo presentato poche settimane fa probabilmente l'avete visto i risultati del nostro GRT che vuol dire Global Rep Track quindi la misurazione delle top 100 aziende nel mondo qua troviamo il ranking dei settori e troviamo il settore tech al secondo posto per reputazione ma il dato interessante è andare a guardare il delta rispetto al 2020 il settore tech è cresciuto di 6 posizioni il che vuol dire è che questa accelerazione del mondo digitale viene addirittura apprezzata dagli stakeholder la fuori in particolare dai consumatori che oggi considerano le aziende tech molto più reputate rispetto a ieri quindi questa accelerazione non è stata soltanto a livello di dato reale ma addirittura il consumatore la fuori ne sta riconoscendo il valore ma entriamo un po' più nel merito perché è interessante andare a guardare alcuni dettagli sulle generazioni e come sta evolvendo il tema del tech qua troviamo la top 10 del nostro ranking globale spaccato per fasce d'età quindi abbiamo la generazione Z i millennial la generazione X e i boomers abbiamo circolettato in rosso le aziende appartenenti al settore tech e qual è il pattern e il trend che emerge se andiamo a guardare nella generazione Z abbiamo 5 aziende su 10 che sono tech companies nei millennial ne abbiamo 3 nella generazione X ne abbiamo 1 nei boomers ne abbiamo 0 è chiaro che c'è un inesorabile invecchiamento della popolazione che tra 10 anni i giovani la generazione Z faranno parte integrante del mondo del lavoro se questo trend rimane così noi tra 10 anni avremo praticamente solo aziende tech all'interno delle top 10 a testimonianza del fatto che questa accelerazione del covid ha portato anche un risultato dal punto di vista di quello che è il percepito delle persone qual è l'evidenza numero 2 abbiamo parlato di employee well being negli ultimi periodi abbiamo parlato di smart working negli ultimi 12 mesi in Italia lo smart working è cresciuto del 24% tutto questo noi abbiamo fatto diverse analisi l'anno scorso e sappiamo che il tema dello smart working è una leva reputazionale e un moltiplicatore perché quelle aziende che adottano politiche di smart working in modo assolutamente pervasivo riescono ad avere un miglioramento della propria risultazione di quasi 4 punti il che vuol dire che non soltanto c'è un trend dal punto di vista concreto che sta diventando una realtà ma là fuori il consumatore addirittura ne apprezza immediatamente i risultati a testimonianza del fatto che nei 12 mesi c'è un cambiamento della realtà ma c'è anche un cambiamento immediato del percepito l'evidenza numero 3 è un'area che mi appassiona parecchio perché si parla dei fondi ESG e quindi della quantità di soldi che oggi vengono destinati a quelle aziende che hanno strategie orientate al concetto di sostenibilità e se andiamo a guardare qual è stato il focus e la quantità di denari che sono stati allocati all'interno di questi fondi da Q4 2019 a Q4 2020 c'è stato un incremento del 244% del numero di denari inseriti all'interno di questi fondi proprio a testimonianza del fatto di quanto si sta accelerando il focus su quest'area è inevitabile dire che la pandemia ha giocato un ruolo perché sempre di più oggi ci si aspetta che le aziende giocano un ruolo importante all'interno e a supporto della società ma vedere questo salto così forte testimonia proprio un cambio completo rispetto a quello che era ieri ora se c'è stato un salto così importante dal punto di vista del focus nel mondo reale e degli investimenti in fondi ESG la domanda da porci è ma il consumatore là fuori percepisce questi investimenti che si stanno facendo oppure no e qua troviamo i risultati negli ultimi 12 mesi in Italia e andiamo a guardare come la reputazione average in Italia ha un punteggio di 71,8 il punteggio average invece sul nostro indicatore di ESG perception che è proprio uno degli indicatori nuovi di cui abbiamo accennato in apertura il punteggio medio di 67,8 il che vuol dire che il percepito là fuori sulle attività che le aziende fanno in ambito ESG è meno compresa e meno forte rispetto alla sua reputazione come potete vedere però dal grafico è chiaro che c'è una fortissima correlazione tra i due e quindi qual è l'opportunità visto che tanto si sta investendo all'interno di quelle aree sempre più gli investimenti andranno in quella direzione e quindi una delle leve è chiaramente valorizzare tutti questi investimenti che si sta facendo in area ESG se le aziende riescono ad aumentare il proprio percepito sulle aree ESG di 5 punti proprio perché c'è una correlazione diretta con la reputazione possiamo vedere un aumento reputazionale delle aziende di 7,1 punto e visto che come sappiamo esiste una correlazione diretta con i dati di business quei 7 punti di incremento reputazionale diventano addirittura un salto a doppia cifra sull'intention to buy e quindi su quell'indicatore predittivo di quello che può essere la potenza e la forza commerciale di un'azienda sul mercato ecco come il ruolo di ESG giocherà un ruolo assolutamente fondamentale nei prossimi 12 mesi e negli anni a venire entriamo nella quarta evidenza abbiamo parlato di ethics and humanism sempre di più si parla di quello che è il supporto che le aziende devono portare a quella che è la società e qui abbiamo una bellissima fotografia che è stata portata da un ente no profit su quelli che sono i contributi che le aziende hanno dato al paese nell'anno della pandemia noi vediamo circa mille iniziative mappate nel corso degli ultimi 12 mesi dalle aziende una donazione di circa 800 milioni di euro e circa 720 aziende che hanno contribuito ci stiamo immaginando questi numeri cioè si sta parlando di centinaia quasi migliaia di aziende di un sacco di soldi e di assolutamente tantissime iniziative ma dove sono state allocate queste iniziative e questi contributi lo trovate all'interno di questi disegni che abbiamo composto all'interno della slide ovviamente il focus è stato dato sugli ospedali però come potete vedere il contributo che le aziende hanno dato dal punto di vista del contributo all'umanità e all'etica in un anno così difficile è assolutamente molteplice dal punto di vista degli impatti e questo ovviamente ha portato poi un beneficio alle aziende qua troviamo tutte le aziende che noi misuriamo su base mensile quindi di nuovo stiamo parlando dei rating e quella che è la crescita reputazionale che queste aziende sono riuscite a governare grazie proprio a ciò che hanno fatto se la linea e la curva e la reputazione cresce è indicatore che si sta facendo ciò che gli stakeholder là fuori si aspettano quindi il contributo da questo punto di vista fatto negli ultimi 12 mesi è stato sicuramente una leva reputazionale importante questo per chiudere entriamo quindi nel valore che la reputazione ha o comunque gli asset intangibili sul valore di mercato abbiamo sempre parlato di 90% Oshantomo ogni 5 anni fa questo report e nel 2020 siamo proprio a quel valore lì il 90% del valore di mercato di un'azienda oggi è composto da asset intangibili ovviamente si sta parlando in America quindi i valori in Europa potrebbero essere leggermente diversi io con ciò chiudo con una citazione che noi abbiamo dichiarato per la prima volta nel 2012 quindi si sta parlando passati ormai 10 anni ma che oggi è più attuale che ieri forse proprio perché ci sono le nuove generazioni che hanno aspettative sempre più forti su tematiche che sono oggi più rilevanti tipo l'ISG tipo l'essere umani nel modo con il quale ci si comporta oppure il fatto della flessibilità nel modo di lavorare oggi siamo più che mai all'interno della reputation economy io con ciò chiudo e passo la parola a Dino Borello per parlarci dell'impatto che le aziende hanno avuto nei settori bene allora grazie Michele questa sezione che aspetta a me si riferisce alla reputazione a un focus sulla reputazione in Italia nel 2020 e cominciamo immediatamente a fare un ragionamento su che cosa qual è stato l'andamento della reputazione negli ultimi anni e vediamo che dal 2018 fino al 2019 poi ancora nel 2020 il trend è una conferma è stato in aumento quindi è un trend che si conferma ma nel 2020 a maggior ragione forse grazie o forse nonostante il Covid l'opinione pubblica ha dato all'azienda ha dato un credito all'azienda nel senso che ha considerato il fatto che le aziende si siano ben mosse abbiano ben reagito ad una situazione di crisi che è stata quella grave ed inaspettata che ha riguardato il Covid siamo arrivati adesso ad un punteggio di oltre 72 anzi quasi di 73 di reputazione che come sapete per quanto riguarda il nostro modello sta già in una fascia di forza della reputazione quindi una fascia che noi definiamo la fascia verde quindi un elemento importante teniamo conto che questo studio di cui stiamo rappresentando è il nostro studio continuativo che tiene dentro cioè 15 settori e tiene inoltre conto di oltre 113 aziende misurate nel corso dell'anno quindi è uno studio omnicomprensivo ed è uno studio continuativo quindi ha dei dati particolarmente significativi ma se vediamo se abbiamo visto il trend in generale senza scendere a questo punto ancora a livello di settore vediamo che cosa è successo intanto separando l'anno in due anch'io ho usato il gimmick di mettere il virus come spartiacque in qualche modo fra i primi due mesi dell'anno quando ancora la pandemia non si era manifestata e i secondi i secondi mesi dell'anno cioè i mesi che vanno praticamente da marzo fino a dicembre e da qui in avanti quando confronterò i dati prima del covid e dopo del covid in realtà non è dopo il covid ma lo spartiacque è appunto il mese di marzo in questo specifico in questo specifico focus a questo punto abbiamo generalizzato nel senso che siamo andati a parlare di nove settori su 15 considerati cioè quelli più rappresentativi e abbiamo quindi considerato i dati relativi a 87 aziende cosa vediamo? vediamo che comunque la crescita del 2020 rispetto all'anno precedente che abbiamo visto nella slide precedente è dovuta sicuramente ad un incremento ancora continuo rispetto all'anno che è avvenuto nei primi due mesi dell'anno ma che è continuato anche dopo quindi nonostante o come dicevamo forse grazie al covid quali sono i motivi di questa situazione? Sono abbastanza intuitivi li ripetiamo un po' già da un po' nel corso di quest'anno e c'è la capacità delle aziende di rispondere all'emergenza e il fatto che questa capacità di rispondere è stata comunicata adeguatamente ha avuto un battaggio importante e che quindi l'audience le audience hanno compreso quello che stava avvenendo e quindi hanno in qualche modo si sono resi grati alle aziende rispetto a quanto esse abbiano fatto in quell'anno tuttavia però c'è da fare un distinguo scendiamo adesso proprio al livello dei nove settori di cui dicevo abbiamo fatto un po' l'approfondimento alcuni settori hanno mostrato sempre in questo spartiacque del prima di marzo e dopo marzo hanno mostrato una crescita ben più alta della media o comunque alta e consistente significativa alcune in qualche modo sotto la media ma possiamo considerare una crescita media altre invece una crescita più bassa una crescita non significativa vediamo un attimo di capire quali sono queste aziende e soprattutto quali sono questi settori e leggendo i settori comprenderemo forse per quale motivo questi settori sono stati quelli che hanno goduto di più e quali della crescita rispetto ai mesi iniziali dell'anno bene i settori che hanno mostrato una crescita importante sono essenzialmente stati il pharma sono stati il financial sono stati il telco e infine il food and beverage con aumenti che superano i due punti di gran lunga i due punti fino ad arrivare agli oltre tre punti del pharma se considerate quindi farmaceutico telco finanziario e food and beverage sono stati quei settori che essenzialmente hanno reso i loro servizi hanno fatto in modo che nonostante la pandemia tutto potesse ancora continuare quindi perché eravamo sempre collegati perché il farmaceutico ha consentito in qualche modo di reagire rispetto alla pandemia e quindi curare quando possibile come possibile o trovare delle soluzioni alla pandemia il settore finanziario che vedremo essere stato creativo nel sostenere un'economia in qualche modo in forte discesa e il food and beverage quindi un bene essenziale quelle invece che sono state le aziende che hanno in qualche modo avuto una crescita sì ma una crescita relativa sono state quelle relative ai beni di largo consumo a prescindere dal food quelli della tecnologia in questo caso in Italia un pochino di meno rispetto invece al trend che abbiamo visto poco fa delle aziende di tecnologia internazionale quindi statunitensi per il fatto della considerazione del fatto che queste aziende sono quasi tutte nessuna europea o comunque nessuna in Italia ma sono invece basate piuttosto negli Stati Uniti e quindi hanno un impatto più a livello globale che a livello locale e il retail che ha avuto un incremento importante nei primissimi mesi dell'anno perché in realtà ha messo a disposizione la possibilità di sopravvivere quindi ha messo in sicurezza negozi dipendenti e quindi in qualche modo gli acquirenti insomma quelli che si recavano nei negozi ma che poi nel corso dell'anno ha diminuito questo impatto quelli invece il settore dell'energia e il settore delle automobili in realtà non ha goduto così tanto di incremento ma anche perché effettivamente se vedete sono settori che in qualche modo hanno come dire influito poco influivano poco sulle necessità immanenti contingenti della popolazione se andiamo a guardare e facciamo un piccolo un piccolo affondo sempre lavorando sul nostro modello quello che poi definisce in qualche modo e spiega la reputazione attraverso sette dimensioni razionali Michele le accennava poco prima siamo andati a guardare quali sono stati in effetti i motivi i motivi razionali per cui poi le persone hanno giudicato positivamente le aziende e quindi hanno dato loro questo beneficio della reazione da questo punto di vista e i tre elementi i tre driver fondamentali a spiegare questa crescita sono stati che cosa? Sono stati la citizenship cioè la capacità di dimostrare una assoluta e pertinente cittadinanza sul territorio italiano presso la comunità italiana il che vuol dire rispetto per l'ambiente da una parte per le comunità rispetto invece di impatto sul sociale quindi il primo elemento che è stato che è stato ricorrente diciamo in tutti i settori è stato proprio la citizenship la seconda invece è la governance praticamente su nove settori otto su nove settori hanno visto come fattore predominante e qui fattore in crescita la governance la governance significa l'eticità la capacità di essere corretti nei confronti del mercato nei confronti dei consumatori ed infine il workplace parleremo fra poco abbiamo visto che c'era un focus sulle persone quanto le persone sono state diventate importanti in questo momento bene anche in questo caso dimostriamo il fatto che il workplace cioè il fatto di avere attenzione per le persone all'interno della propria organizzazione a dimostrare il fatto di poter continuare il business nonostante tutto e quindi i dipendenti metterli in sicurezza per andare a lavorare da casa o comunque in ufficio bene questo è stato un elemento importante gli altri invece sono ricorrenti molto meno come vedete con percentuali di ricorrenza molto più basse rispetto ai trade diver di cui vi ho appena parlato guardiamo adesso l'influenza di questi sette driver per ciascuno dei settori e vediamo essenzialmente che un po' la figura è più o meno simile a quella che abbiamo raccontato in termini di overall view nel senso che in tutti i settori sette su nove alla fine prodotti e servizi questi sono gli elementi determinanti per la valutazione della reputazione seguiti ancora una volta su sette su nove da citizenship e da governance per quanto riguarda invece un'eccezione quella di automotive per esempio questa rappresenta un'eccezione questa eccezione è data dal fatto che uno dei driver in realtà che determina la reputazione in quel settore a questo punto non fa parte di governance e citizenship che sono un po' i motivi degli altri degli altri settori delle altre industrie ma è la leadership se andiamo a guardare in realtà invece quali sono stati i driver che sono cresciuti nel corso dell'anno quindi i primi due mesi ancora una volta i secondi dieci mesi dell'anno beh il quadro cambia un po' perché ancora una volta quelli che crescono ancora di più sempre con qualche eccezione sono ancora una volta governance e citizenship workplace segue a ruota come elemento ancora importante quindi abbiamo realmente una focalizzazione su questi tre driver sia in termini di importanza relativa iniziale sia in termini di crescita nel corso dell'anno sappiamo che per andare ancora un pochino più in dettaglio a descrivere un po' le motivazioni e quindi gli elementi più specifici che hanno determinato questi giudizi e questa importanza relativamente ai driver della reputazione sappiamo che i nostri driver sono essenzialmente formati da 23 fattori più dettagliati più specifici e siamo andati a guardare quali di questi fattori i primi più importanti sono quelli più ricorrenti in termini di loro influenza per far crescere i driver relativi e lo vediamo in questa in questa in questa chart notiamo subito proprio nel codice colore che ripetiamo ancora una volta citizenship governance e entra come come incomodo innovation come terzo incomodo quarto incomodo innovation sono i fattori che hanno determinato maggiormente la crescita i numeri che leggete sono relativi al fatto della ricorrenza di quante volte nei nove settori ricorre il fatto che quel determinato fattore ha determinato la crescita il primo fra tutti sono le buone cause cioè aver supportato buone cause le giuste cause il secondo riguarda essenzialmente il fatto che c'è stata cura nei confronti degli employees e il terzo ancora è un elemento di workplace quindi essenzialmente offrire uguali opportunità a chiunque potesse e avesse il diritto e il dovere di andare a lavorare seguito come quarto ancora dall'impatto ambientale ed infine dal tema dell'eticità quindi come vedete il focus delle persone dell'eticità e in qualche modo delle buone cause ha spiegato ancora più nel dettaglio il trend che abbiamo visto finora passiamo adesso in realtà invece proprio per concludere il cerchio passiamo a vedere quali sono stati i canali attraverso i quali i contenuti che avete visto prima quindi tutti i contenuti che le aziende hanno provato a raccontare al pubblico generale quindi alla pubblica opinione per dimostrare il loro impegno nell'ambito e nel periodo della pandemia e vediamo quali sono stati sempre in termini di quante volte ricorrevano in termini di importanza in termini di impatto questi canali nei nuovi settori nelle nuove industrie e si dimostra questo e cioè che i mezzi propri a partire per esempio dal company website e quel touch point sono quei touch point che hanno contribuito maggiormente all'incremento della reputazione aziendale quindi il primo di tutti è il company website secondo è laddove c'era dove era possibile ancora l'esperienza all'interno del punto di vendita quindi eventi specifici sponsorizzati o comunque sovvenzionati delle aziende per dare un supporto sociale un supporto importante alla società e comunque poi di seguito ancora la comunicazione più legata all'online quindi più legata all'informazione sappiamo che l'online è stato un elemento un canale di consultazione assai importante nel periodo del 2020 mentre invece hanno avuto praticamente scarso nessuna importanza altri canali diversi da quelli propri e dall'esperienza diretta in particolare l'advertising non ha influito sulla reputazione così come in particolare il passaparola da parte degli impiegati e la media cover è giusto i mezzi tradizionali quindi se dobbiamo fare uno spartiacque mezzi propri e mezzi digitali versus invece mezzi tradizionali e advertising una cosa a cui tengo molto è questa analisi nel senso che prova a mostrare settore per settore quindi industria per industria prova a mostrare i tratti di personalità che contraddistinguono quell'industria nella parte alta della tavola quindi con le scritte in nero vedete i primi tre tratti principali che caratterizzano l'industria che certamente non commento nel senso che ogni industria ha il suo tratto e quindi è effettivamente in maniera molto chiara espressa in questi tre aggettivi in realtà quello che mi preme sottolineare quindi il messaggio che mi preme a far passare è che cosa è successo in termini di cambiamento di immagine delle aziende o comunque in questo caso dei settori delle aziende che appartengono a questi settori cosa è successo in termini di cambiamento di immagine comunque cambiamento dei tratti di personalità di questi settori ed è abbastanza sorprendente da una parte ma è un po' confermativo rispetto a quello che abbiamo detto finora e cioè che fatta eccezione della solita automotive in qualche modo che abbiamo visto essere stato un po' l'elemento un po' di disruptive diverso rispetto a tutti gli altri notiamo essenzialmente tre cambiamenti fondamentali i primi quelli vedete gli aggettivi circolettati in rosso sono stati legati ad un tema di patriottismo ma traduciamola in maniera più concreta vuol dire localismo vuol dire cioè avere avuto un interesse un impatto una capacità di incidere sul territorio in maniera rilevante quindi praticamente tre su nove settori hanno dimostrato maggiormente di essere locali di avere un'attenzione alla persona e alla popolazione un secondo elemento che è stato caratterizzante del comportamento aziendale che quindi è passato come una tematica di percezione dei propri tratti di personalità è stato quello che poi circolettati in giallo per intenderci e quello che ho definito abbiamo definito l'umanesimo l'humanismo Michele Tesoro poco prima raccontava quanto questo fosse un trend ma non è un trend perché è una considerazione generale è un trend perché lo vediamo nei numeri vediamo cioè che l'essere più sinceri l'essere più amichevoli l'essere più caring nei confronti delle persone sono stati dei tratti che le persone stesse hanno riconosciuto l'azienda in alcuni settori più che in altri più che in altri nel periodo della pandemia ed infine numerosi di questi tratteggiati e circolettati in verde è quello che ho definito è un po' l'activism questo attivismo adattativo se vogliamo definirlo così che cosa intendiamo intendiamo la capacità di adattarsi di innovare di essere reattivi quindi di essere progressivi creativi moderni più moderni e questo è il terzo tratto essenzialmente che è venuto fuori quindi tutto ha un fil rouge le aziende hanno agito nei confronti del pubblico per migliorare la loro percezione ci sono riuscite nel corso della pandemia lo hanno fatto attraverso essenzialmente delle percezioni che riguardano soprattutto il diritto di cittadinanza l'eletticità e la trasparenza e il rispetto per le persone lo hanno fatto attraverso i propri canali essenzialmente quelli dove ci si poteva più in qualche modo informare e quindi le aziende sono state capaci di comunicare se stesse ma soprattutto hanno comunicato maggiormente la presenza sul territorio la loro umanità quindi l'attenzione per le persone ed infine la loro modernità la capacità di adattarsi non fosse altro per esempio col digitale in alcuni casi soprattutto per quanto riguarda il retail in alcuni casi di successo in altri casi un pochino di meno bene mi porto dietro quindi questi tre concetti quindi quello del localismo quello dell'umanesimo e quindi quello dell'attivismo adattativo per giungere un po' alle conclusioni insomma di questa parte quindi della reazione del mercato italiano in qualche modo in termini reputazionali ecco questi sono i tre concetti di cui parlavo e provo a dire che essenzialmente il fatto di aver essere stati percepiti positivamente se più locali più umani e più attivi e più adattativi è stato legato essenzialmente a tre temi a tre grandi temi e cioè un incremento delle paure un incremento delle paure da parte delle persone e queste paure sono state determinate ma accelerate probabilmente su paure persistenti che riguardavano la pandemia quindi la crisi la crisi di salute che ha circondato noi stessi ma poi tutto il mondo e di conseguenza quindi le paure più profonde ancora che riguardano in assenza di salute la incapacità di lavorare di perdere il lavoro quindi di perdere il potere di acquisto quindi in qualche modo davvero di poter sopravvivere da una parte ma dall'altra anche paure più ampie che ci hanno accompagnato nonostante comunque in parallelo rispetto alla pandemia che tutto il tema della giustizia della divaricazione sociale che mano a mano nel mondo si sta acquendo ed infine ultimo ma non da ultimo il tema del climate change quindi siamo comunque in un ambiente una paura in cui probabilmente ci stanno bombardando su questo ma perché effettivamente è un tema importante a cui le aziende in qualche modo dovranno rispondere se queste erano le paure essenzialmente queste paure poi si sono riflessi in needs che sono esplosi in questo anno e che probabilmente continueranno ad essere il fuoco il focus nei prossimi anni a venire per quanto riguarda l'impegno aziendale che riguarda il senso della sicurezza c'è un bisogno di sicurezza a 360 gradi in tutto e per tutto dove la sicurezza è fisica la sicurezza è mentale la sicurezza è sociale di benessere e di bene di buono quindi questo fa un po' il paio con l'umanesimo rispetto a quello che stavamo parlando la volontà la capacità il bisogno di risocializzare ma forse di risocializzare anche in casa e non per forza nell'ambito nell'ambito generale ed infine di avere una prospettiva futura per se stesse e per i propri figli se quindi tutto ciò è stato fondato su paure e su bisogni sappiamo benissimo che le persone ormai si aspettano che soluzioni a queste paure a questi bisogni vengono fornite dalle aziende dalle aziende a livello locale senz'altro ma in generale a livello mondiale proprio perché in qualche modo vogliono che le società lavorino per il bene della società lavorino per il rispetto dell'ambiente e in qualche modo spingono addirittura vogliono che le società influenzino i governi e non viceversa visto il fatto che la fiducia nei confronti di governi visto anche l'andamento ultimo di come i governi stanno affrontando un po' la realtà sociale la realtà ambientale la realtà economica la realtà della pandemia appunto pensano appunto che la fiducia vada data di più alle aziende la competenza sia più delle aziende che rispetto ai governi e quindi alla fine tornando indietro in realtà chi riuscirà ad essere più locale più umano più attivo e adattativo e quindi saprà affrontare le issue sociali e le issue ambientali sarà quello che poi vincerà sarà il settore e comunque saranno le aziende che vinceranno e cresceranno ancora in termini di reputazione bene io ho concluso questa parte che riguarda i settori e l'impatto della pandemia sulla reputazione in Italia delle aziende in Italia e passerei la parola a Sara Fargionno che invece si occuperà dell'aspetto sempre relativamente alle persone ma alle persone che lavorano quindi gli employee che lavorano all'interno delle organizzazioni a te Sara grazie Dino a me adesso sarà un po' il compito di portarvi attraverso coloro che di fatto sono stati i protagonisti di questo anno e che si spera che chiaramente siano i protagonisti anche del prossimo futuro comunque i dipendenti le persone i miei colleghi sia appunto sia Michele che Dino hanno parlato di umanesimo ne abbiamo parlato moltissimo e umanesimo e well being in realtà si concretizzano nelle persone in realtà è come se parlassimo di ormai un'economia del P2P person to person sostanzialmente che viene impersonato appunto da quelle che sono le persone che di fatto lavorano all'interno delle aziende all'interno di tutto diciamo il tessuto lavorativo italiano quindi è interessante vedere come il concetto comunque di umanesimo ovviamente coincide anche con il concetto di well being di benessere generale noi abbiamo fatto già un monito l'anno scorso su questa accelerazione su questa concentrazione di attenzione verso appunto il dipendente e vediamo che questa accelerazione si è portata dietro anche tante azioni come abbiamo detto la concretezza è stata la protagonista durante tutto quest'anno quindi le aziende si sono portate a fare proprio ad agire concretamente su tantissime leve ed infatti anche verso il dipendente stesso si sono mosse molto ma vediamo andiamo per ordine vediamo un attimo quali sono anche i livelli di importanza di questo stakeholder rispetto agli altri gruppi di stakeholder che sono stati citati precedentemente allora è interessante vedere nella parte più a sinistra della nostra diapositiva che esiste una specie di ranking sostanzialmente dell'importanza dei vari stakeholder è interessante vedere che tramite le interviste che abbiamo fatto a diverse aziende e al top management di queste aziende hanno giudicato estremamente influenti ed estremamente diciamo interessati alla strategia aziendale i dipendenti quasi al pari insomma dei clienti è una cosa diciamo un po' sensazionale rispetto alla normalità che siamo abituati a vivere dove il cliente è assolutamente al centro ed è l'unico che ha sempre ragione diciamo che adesso a questo cliente a questo stakeholder si aggiunge la persona la persona del dipendente che appunto può a questo punto avere un'influenza sulla strategia aziendale quindi l'esempio chiaramente più tra virgolette banale è quello proprio dello smart working abbiamo dovuto cambiare l'azienda cambiare l'organizzazione cambiare il processo all'interno dell'organizzazione per far sì che il dipendente potesse effettivamente lavorare nelle nostre analisi emerge anche che non solo è più importante perché è più influente ma che coloro che ascoltano la loro voce la voce del dipendente quindi in quella comunicazione peer to peer sostanzialmente quando il dipendente parla verso l'esterno viene riconosciuta nella reputazione più alta quindi è anche una fonte autorevole di comunicazione di esposizione di ambassadorship come viene chiamata dell'azienda stessa un altro elemento interessante è quello che citavamo in diversi punti della nostra mattinata insieme del nostro momento insieme è del fatto che tutto ciò che è intangibile in realtà è parallelo dell'aspetto finanziario in realtà diverse analisi che svolgiamo noi ma non solamente noi vanno a mettere in correlazione quello che è un aumento del benessere della felicità del well being appunto delle persone quindi dei dipendenti e aumenta anche a pari passo forse anche più proporzionale l'aspetto della profittabilità e della produttività quindi come dire di nuovo andiamo a far coincidere un aspetto che tradizionalmente era abbastanza un nice to have qualcosa di assolutamente opzionale che invece diventa un criterio sine qua non per fare la differenza anche a livello finanziario vediamo adesso alcuni nostri dati che mostrano la voce del dipendente quindi ci stiamo spostando rispetto allo stakeholder che abbiamo analizzato fino adesso che era appunto il general public ma andiamo a vedere come lui cioè il dipendente ha vissuto questo momento di pandemia nella nostra analisi abbiamo due indicatori fondamentali il primo si chiama reputazione questo è ovviamente confrontabile con tutti gli altri indicatori che abbiamo visto fino adesso che però è un giudizio da parte del dipendente quindi dall'interno dell'organizzazione che vede la propria organizzazione verso il mercato è un legame emotivo di nuovo quindi un attaccamento come si suol dire con una metafora calcistica alla maglia per vedere effettivamente quanto siamo legati alla propria azienda l'altro indicatore viene chiamato strategic alignment è l'allineamento il livello di allineamento strategico che le persone hanno verso l'azienda di fatto non solamente verso la maglia appunto l'azienda ma anche verso il suo percorso verso la sua strategia verso il suo visioning a lungo termine vediamo adesso appunto nel corso del tempo come si è modificata questo primo indicatore dicevamo è la reputazione interessante vedere come appunto questo accorgimento da parte delle aziende rivolte verso i dipendenti abbiano dato di fatto un incremento sostanziale al giudizio quindi dall'interno verso le aziende stesse un incremento di oltre tre punti vediamo parallelamente cosa è successo all'indicatore di alignment l'indicatore di alignment in realtà sostanzialmente è stato abbastanza stabile è cresciuto di solo 0,4 però il suo spin principale è avvenuto tra il 2017 e il 2018 se cerchiamo di riproiettarci nel passato questo è stato il momento in cui si è cominciato a parlare di una nuova strategia si è cominciato a parlare della purpose si è cominciato a parlare di qualcosa che fosse un ruolo diverso dell'azienda quindi lo spin principale che abbiamo visto in questo tempo è avvenuto dal 2017 al 2018 mentre sulla reputazione quindi nei fatti nell'ultimo anno chiaramente la sfida sarà proprio nel 2021 poter portare a termine un racconto una dichiarazione di intenti estremamente grande che poi viene manifestato evidentemente in futuro guardando nel dettaglio adesso gli aspetti reputazionali come avete visto ci abbiamo sette driver guardiamo sia il livello di importanza giudicato dai dipendenti nei riguardi delle sette driver e sia la performance che hanno avuto modo di giudicare appunto i dipendenti verso le aziende stesse a sinistra quindi vediamo la percentuale la distribuzione dell'importanza dei driver per far sì che aumenti ulteriormente la reputazione nel tempo quindi di fatto è un po' diciamo l'identikit delle cose che l'azienda dovrebbe fare nei riguardi del proprio dipendente per aumentare questo legame emotivo di cui abbiamo parlato prima non sorprende comunque vediamo che continua a essere estremamente centrale se guardate appunto le percentuali la persona la persona nella fattispecie nel mondo del workplace quindi ovviamente io come dipendente guardo molto al workplace per ovvia ragione ma guardo anche alla leadership che è una percentuale importante leadership nella fattispecie non è una leadership di prodotto ma è una leadership proprio intellettuale quanto le persone dell'azienda i leader dell'azienda si mettono in condizione di esporsi verso l'esterno e quanto possono dare come dire un esempio nel mercato non da ultimo anzi in realtà di fatto il secondo fattore è la trasparenza e l'elettricità che insomma anche Dino ha molto esplicitato precedentemente che non vale solo per il cittadino diciamo per l'opinione pubblica ma ovviamente vale anche per il dipendente stesso che vuole credere nella trasparenza e nell'elettricità della propria azienda partendo da questo presupposto queste sono un po' diciamo le priorità per il futuro ma che cosa è successo durante quest'anno il dato che probabilmente salta più all'occhio è proprio quello di un incremento della performance del workplace dello spicchio come vedete in basso a destra di 11 più 11,8 quindi di fatto diciamo l'apprezzamento da parte del dipendente di un fattore così sensibile come il workplace è aumentato di quasi 12 punti è forse il fattore più diciamo sfidante perché tra l'altro è quello come vediamo quello che è più atteso da parte della persona stessa quindi è stato un ottimo risultato dal punto di vista appunto delle aziende nel concretizzare raccogliere anche un riscontro da parte dei dipendenti nel vedere quanto abbiano riconosciuto questo tipo di sforzo non è da dare per scontato perché talvolta quando si dà non sempre insomma viene riconosciuto poi dalle persone stesse interessante anche un altro elemento che i tre aspetti più importanti che sono di fatto quelli evidenzati in blu sulla sinistra sono anche quelli in arancione sulla destra dunque sono quelli anche dove performiamo un po' meno bene sapete che il codice arancione significa che è un average performance rispetto al verde che è già invece in fascia strong quindi comunque esiste ancora un percorso evidentemente da svolgere nei prossimi anni e poi c'è un ulteriore elemento che è questo decremento lieve se vogliamo di 1 e 4 sulla leadership perché proprio le attese continuano ad aumentare si continua a pensare quanto l'umanesimo sia di fatto la rappresentazione umana proprio del viso della faccia metterci la faccia da parte dei leader nei confronti davanti all'azienda quindi questo aspetto reputazionale è stato diciamo un elemento di grande stimolo sicuramente per lo sviluppo della reputazione nel prossimo anno guardando anche l'altro aspetto che invece è quello di cui avevamo parlato prima che è l'allineamento strategico non abbiamo solo l'indicatore diciamo sintetico ma abbiamo anche dei driver come succede per la reputazione noi abbiamo 5 fondamentali i driver che riguardano i primi tre l'universo dell'informing l'universo dell'informazione un universo che è quello della motivazione e poi dello sviluppo delle competenze la renchizzazione fa vedere come lo score che vediamo in questa diapositiva vede come l'informing quindi le tre dimensioni legate all'informazione alla comunicazione verso il dipendente performano molto meglio quindi hanno degli indicatori più alti rispetto all'aspetto della motivazione e del percorso di carriera questo fa vedere quanto è stato cruciale parlare con i propri dipendenti quanto l'azienda sia a livello istituzionale sia con i canali proprietari con la comunicazione interna con il cascading che di fatto è la comunicazione one to one tra capo e collaboratore e anche il dialog tutta la comunicazione orizzontale tra dipartimenti ma anche tra persone eravamo tutti a cata ma cerchiamo di informarci di essere allineati a un determinato percorso che dobbiamo svolgere insieme un po' meno diciamo come dire con dei risultati un po' meno significativi sono stati l'aspetto delle reward recognition quindi del riconoscimento monetario e non monetario e l'aspetto dello sviluppo delle competenze come vedete comunque l'incremento sono stati significativi per tutti abbastanza importanti e quindi da come al solito un indicatore intanto di buona salute chiaramente di questi indicatori perché vuol dire che l'azienda si sta muovendo nella direzione corretta e quindi cerchere di andare avanti soprattutto su quelli a driver che sono più importanti un aspetto che abbiamo analizzato proprio nel 2020 è che probabilmente questa vista dei 5 driver che ho appena raccontato fino ad ora non fossero così esaustivi perché tutto si stava evolvendo abbiamo parlato di purpose abbiamo parlato di umanesimo abbiamo parlato di un visioning strategico dell'importanza di far vedere gli intenti dell'azienda che porterà avanti nel corso del tempo dunque il nostro modello quest'anno ha previsto con una serie chiaramente di analisi e di focus group insomma per poter includere ulteriori variabili sia un aspetto legato appunto l'abbiamo chiamato visioning ma il concetto è quello che abbiamo appena spiegato e l'aspetto della purpose ci ha dato ragione insomma a sviluppare questo tipo di evoluzione del modello con di fatto i pesi che questi driver effettivamente possono fare la differenza sull'allineamento delle aziende quindi sostanzialmente cosa succede che prima erano cinque fattori ne abbiamo aggiunti due proprio per essere allineati con quello che è lo sviluppo delle necessità dei dipendenti e vediamo infatti che sono tra i tre più importanti il media messaging che abbiamo detto essere la comunicazione istituzionale tra l'azienda e la persona rimane focale perché se io so sono delle condizioni di poter apprezzare e giudicare l'azienda e dall'altra parte però devo anche conoscerne i suoi sviluppi futuri appunto nel visioning e devo credere in ciò che fa devo essere convinto nella mission nella purpose di fatto che l'azienda sta svolgendo per farne parte e essere un attore assolutamente protagonista quindi questa evoluzione ci ha dato un'altra indicazione di come muoverci per cercare di ottenere un livello di allineamento strategico più alto nel prossimo anno come grande sfida un ulteriore spunto di analisi è quello in cui mette di fatto in relazione questi due driver abbiamo parlato di reputazione appunto abbiamo parlato di allineamento strategico se mettiamo insieme queste due variabili ci dà un po' una mappa di quello che sono i rispondenti che di fatto sono i dipendenti che hanno risposto alla nostra survey e per capire effettivamente come si distribuiscono in una scala quanto sono effettivamente polarizzati verso il positivo verso il negativo e quanti invece sono in fascia average è bello se vogliamo vedere che tra il 20 e il 25% dei nostri dipendenti credono nell'azienda sia in termini di reputazione e sia credono nell'allineamento e siano allineate alla strategia aziendale questo ovviamente è un tesoretto un patrimonio inestimabile sulla quale poter investire per poter ovviamente fare un effetto cascata anche sugli altri gruppi aziendali per poter convincere anche chi magari è più incerto nella fascia appunto average nella zona arancione che vediamo nel grafico per poterli posare sostanzialmente a bordo coloro che sono comunque ancora molto scettici sono tra il 15 e il 20% comunque una quota non irrisoria ma se vogliamo quasi naturale che si abbiano all'interno delle organizzazioni per la quale comunque un percorso si può sicuramente fare quindi a questo punto abbiamo tre fattori un aumento della reputazione un aumento dell'allineamento strategico abbiamo visto i fattori che ci spingono verso un incremento ulteriore nel prossimo futuro di questi risultati e possiamo far leva come abbiamo detto prima di questo tesoretto di questo patrimonio di persone che possono fare un effetto domino su tutte le altre persone dell'azienda per poter effettivamente arrivare a quello che è un obiettivo comune con questo volevo concludere aprendo ad alcuni elementi che sono un pochino le caratteristiche della sfida dei prossimi mesi ormai siamo già nel 21 ma sicuramente nel prossimo futuro per cercare di capire effettivamente che cosa cambierà sicuramente quello che adesso viene chiamato il lavoro ibrido quindi quanto tempo passeremo a casa quanto tempo passeremo in ufficio come saranno gli uffici fisicamente come ci organizzeremo negli spazi nelle dinamiche sicuramente questo sarà un punto sul quale si giocherà una grandissima partita e anche una competizione se volete tra le aziende stesse di poter fare la differenza e trovare la soluzione più giusta o comunque più soddisfacente dal punto di vista delle persone un altro elemento è quello delle competenze chiaramente abbiamo messo a disposizione tutte le competenze che avevamo a disposizione quasi naturalmente un pochino in forma spontanea a livello di digitalizzazione degli strumenti che avevamo a disposizione in realtà la sfida è anche proprio nel modello di leadership come cambiano i leader nel momento in cui devo rapportarmi con i miei collaboratori solamente a distanza come cambiano le capacità che devo avere l'empatia appunto l'umanesimo ma anche il modo di prendere decisioni in maniera ferrea in ogni caso perché comunque bisogna avere anche una modalità di sicurezza da trasmettere ai nostri collaboratori benché non siano vicini a noi e poi abbiamo parlato appunto dell'esposizione del CEO abbiamo parlato dell'esposizione della leadership in generale quanto questo deve essere un megafono univoco quanto deve essere poi esploso o comunque esteso a tutta la popolazione aziendale tutti questi elementi sono sicuramente delle sfide importanti dove le aziende le vediamo che si stanno muovendo in questo momento e quindi sicuramente è un'altra dei connotati di come ha detto prima Michele della reputation economy che si è aperta dieci anni fa ma in realtà la vediamo assolutamente nel suo vivo proprio adesso a proposito dell'argomentazione che abbiamo affrontato oggi insieme abbiamo il piacere di avere con noi Katia Riva Chief Sustainability Officer di Atlantia con il quale faremo alcuni scambi e domande benvenuta Katia buongiorno piacere di essere con voi oggi allora la prima domanda riguarda più l'aspetto appunto di sustainability di fatto abbiamo visto nei grafici precedenti un incremento sostanziale degli investimenti sull'ERG come leggi questa crescita è così importante quali sfide vedi per le aziende i mercati finanziari hanno ben presenti sia i rischi sia le opportunità derivanti dagli impatti sociali e ambientali dei business nei quali investono questo è in particolare vero per quanto attiene rischi e opportunità connesse con il cambiamento climatico in questo senso un portafogli di investimenti sostenibile nei suoi aspetti sociali nei suoi aspetti ambientali è più resiliente quindi più capace di generare ritorni nel medio e lungo termine per gli azionisti faccio un esempio su tutti il cambiamento climatico è un rischio finanziario nella misura in cui avere un portafogli di business in cui si è investito che ha maggiori capacità di adattamento verso la transizione a un'economia a basse emissioni ha maggiori probabilità di continuare a generare ritorni positivi per gli azionisti per le aziende che sono poi i soggetti economici in cui il mercato finanziario investe c'è dunque un interesse a far sì che i loro modelli di business incorporino i fattori sociali i fattori ambientali i rischi e le opportunità connesse a una giusta transizione nell'interesse di tutti gli stakeholder della catena del valore compresi gli investitori che mettono a disposizione i capitali la sfida dunque per le aziende è ripensare il modello di creazione di valore in una logica di capitalismo dagli stakeholder e non solo dagli shareholder la seconda domanda invece riguarda più le persone come abbiamo affrontato precedentemente che sono diventate sempre più importanti per le aziende addirittura a far integrare all'interno proprio dell'NBO delle performance del management nei KPI anche l'indicatore della reputazione e allora chiedo a te quanto effettivamente il tuo management ci crede o quanto in realtà è qualcosa un pochino di facciata il trend di collegare la remunerazione del management alle performance sociali e ambientali fra le quali la reputazione nei confronti degli stakeholder è sull'agenda dei consigli di amministrazione e degli amministratori delegati e a mio avviso è un tema di sostanza e non un tema di mera comunicazione o di marketing questo perché se stiamo andando come stiamo andando verso un modello economico di creazione di valore per tutti gli stakeholder la reputazione e quindi la fiducia che questi stakeholder mettono nelle aziende è un fattore intangibile molto importante per la creazione di valore in questo senso è opportuno collegare una quota della remunerazione del management anche alle performance di questo genere su questo posso portare un esempio molto concreto e molto recente l'assemblea degli azionisti di Atlantia del 28 di aprile era chiamata anche a votare sull'adozione di un piano di incentivazione manageriale di medio-lungo periodo che fra le sue metriche ha metriche di valore sostenibile fra cui la reputazione ed è stata approvata con 99% di voti favorevoli quindi direi che è un tema rilevante grazie mille Katia per il tuo intervento e lascio la parola a Michele grazie mille Sara per il secondo intervento siamo in Borsa Italiana abbiamo visto diversi segnali che ci stanno dicendo che sempre di più il coinvolgimento dei mercati azionari fanno parte integrante quando si parla di reputazione addirittura abbiamo visto una crescita a tripla cifra degli asset under management all'interno dei fondi ISG ho quel piacere di avere ancora con noi Raffaele Gerusalmi appunto amministratore delegato di Borsa Italiana e chi meglio di lui ci può dare una sua prospettiva Raffaele ci sono diversi segnali che testimoniano la crescente attenzione dei mercati finanziari al tema della reputazione come indicatore predittivo di quella che è una sostenibilità a lungo del business ma qual è la tua prospettiva da questo punto di vista sicuramente il tema è molto caldo è molto attuale sicuramente oggi la reputation è uno dei fattori più importanti nella determinazione del valore di un'azienda pensiamola anche in questo modo che sostanzialmente oggi la maggior parte delle aziende quotate ha una valutazione che dipende per il 70-75% da quello che è il suo intangible value allora se questo è diciamo vero per la stragrande maggioranza delle aziende quotate nel mondo questo è un riferimento che fa molto riflettere perché pensiamo che solo 30 anni fa o 35 anni fa era esattamente rovesciato anzi molto più che rovesciato perché il 95% del valore dipendeva dai physical asset oggi con l'avvento secondo me anche dei social media in genere siamo arrivati a una situazione in cui questa valutazione è fondamentale per determinare il valore di un'azienda cioè la reputation intesa come l'insieme di tutta una serie di fattori che concorrono a formarla quindi le capacità finanziarie che ha l'azienda la bontà dei suoi prodotti la capacità di innovare la sua qualità nel management e la capacità di attrarre talenti sono tutti fattori che vanno a determinare la reputation di un'azienda e a valutare anche il suo brand in qualche misura se ha un brand e credo che questo oggi sia la realtà delle cose quindi è un impatto devastante sul valore di un'attività o di un'azienda beh è chiaro che molto è stato fatto negli ultimi anni e che molto però c'è ancora da fare addirittura io penso che sono dieci anni che facciamo questo evento solo tre anni fa siamo arrivati in borsa prima il concetto reputazionale interno dei mercati finanziari era forse un concetto ancora un po' lontano ma se dobbiamo darci ancora una volta una tua prospettiva sul futuro che cos'è che manca oggi per vedere la reputazione stabilmente come indicatore guardato dagli analisti finanziari ma probabilmente quello che servirebbe oggi è definire delle metriche più precise per ognuna di quegli aspetti che io ho indicato prima e che servono a creare la percezione della reputation perché reputation in gran parte è una percezione questa percezione però è fatta da elementi molto chiari e tangibili in questo caso non intangibili che possono probabilmente essere misurati con molta più precisione ecco forse bisognerebbe cominciare a introdurre delle metriche che consentano di misurare questi aspetti in modo da rendere più semplice anche in qualche modo la capacità di analisti e la capacità di investitori per cogliere le migliori opportunità per quelle aziende che invece dimostrano la capacità proprio di andare a migliorare in maniera molto sensibile l'aspetto della reputation e in ultimo abbiamo parlato di analisti finanziari ovviamente il loro lavoro è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni anche perché proprio con l'avvento dei social oggi la reputazione è sempre di più un indicatore rilevante perché ha la potenza di modificare molto quelli che sono gli eventi dal giorno alla notte come sta cambiando il mestiere di analisti finanziari e che tipo di prospettive hai tu sul futuro il mestiere è cambiato in modo radicale perché come ripeto prima la valutazione degli asset fisici era predominante ed era molto semplice pensiamo solo anche banalmente le stesse aziende che operavano 35-40 anni fa operavano in un mondo che era fatto di hardware di macchine di manifattura prevalentemente oggi siamo in un mondo totalmente opposto dove tutto è fatto molto più sulla base appunto del brand della notorietà della popolarità di un marchio e dei servizi che ovviamente anche sono una delle aree che si è sviluppata maggiormente negli ultimi tempi quindi credo che da questo punto di vista il lavoro dell'analista finanziario è cambiato radicalmente è difficile tuttora secondo me in alcuni casi avere una capacità di valutare in modo adeguato il valore del brand e quindi il valore del brand che è parte appunto di tutto questo tema della reputation perché alla fine il brand è una componente forse la più visibile di qualche cosa che comunque è legato comunque alla reputation quindi da questo punto di vista la capacità dell'analista finanziario è andare oltre i numeri e cercare di così incorporare diciamo nella sua attività nelle sue valutazioni anche quello che è il sentimento del pubblico rispetto a quello che è il valore di un brand il valore di una reputation aziendale o del suo management o dei suoi dipendenti perché sicuramente il tema della reputation oggi è un tema che credo sarà sempre di più centrale nella vita delle aziende ma soprattutto anche per chi dovrà fare le valutazioni grazie mille Raffaele per essere stato con noi grazie ancora al tuo contributo e rinnovo ancora il ringraziamento per averci ospitato qua in questa bellissima location grazie Michele grazie a te e in bocca al lupo e speriamo di rivederci presto entriamo però nell'ultima sessione e andiamo a guardare alcuni aspetti di quelli che sono gli strumenti che devono essere al centro del tavolo delle aziende per riuscire a gestire la reputazione nel prossimo biegno e in questo invito sul palco Alessandro Detto per darci appunto questa panoramica sulle aziende in Italia e per chiudere l'evento per noi grazie Ale grazie Michele e benvenuti anche da parte mia il mio compito oggi è portare tre temi che tratterò oggi insieme a voi il primo è perché abbiamo cambiato il nostro approccio metodologico il secondo è come si è evoluta la reputazione delle aziende anche guardando a elementi molto recenti come diceva Michele abbiamo iniziato a misurare le aziende mensilmente quindi vi porterò anche oltre il 2020 raccontato da Dino fino a proprio il primo trimestre del 2021 e capiremo alcuni scenari e trend per il futuro e il terzo tema che tratteremo insieme sono quali sono gli strumenti necessari nella nostra cassetta degli attrezzi per vincere nella reputation economy guardiamo il primo la prima slide che ci racconta un esempio di azienda che abbiamo preso rappresentativa per l'Italia negli ultimi quattro anni il trend di reputazione di questa azienda negli ultimi quattro anni e se lo guardiamo è un trend in crescita una stabile crescita negli ultimi anni in particolare nell'anno 2020 e ci dà una fotografia di un'azienda appunto che sta crescendo in termini di reputazione ma se andiamo un po' più nel dettaglio e osserviamo la medesima azienda misurata negli ultimi quattro anni a livello mensile beh allora ci troviamo di fronte a una fotografia un po' diversa perché perché vediamo questa azienda che durante il suo percorso reputazionale ha subito delle valli e altrettanti picchi e allora osserviamo magari alcuni elementi nei stessi periodi 12 mesi dal 2017 al 2018 o dal 2019 al 2020 vediamo che questa azienda è stata in grado di crescere oltre 10 punti all'interno di un anno solare e quindi questo ci permette di comprendere gli impatti delle cose che facciamo accadere come azienda ma anche del contesto esterno che ha impatto sulla nostra azienda questo ci permette anche di comprendere il ritorno di investimento delle nostre iniziative e ci tengo poi a sottolineare quello che sempre abbiamo sottolineato da quando analizziamo la reputazione delle aziende che la reputazione è un mezzo non è il fine e quindi capire gli impatti vuol dire capire gli impatti che questi hanno sui comportamenti oltre che sulla reputazione perché come ci diceva Michele ce l'ha detto anche ierusalmi l'indicatore di comportamento relativo alla reputazione è predittivo di potenziali impatti sul business aziendali questo è il motivo per cui l'approccio metodologico di RepTrack si è evoluto e ha deciso di avere una profondità maggiore nel mondo delle aziende e questo ci permetterà di comprendere come quando le cose accadono hanno impatti sulla nostra reputazione ecco perché da oggi non parleremo più di classifiche o di ranking ma inizieremo a parlare di rating di impatti e di scenari proviamo a entrare in un primo scenario tutti conoscete il nostro codice semaforico dove rosso la reputazione è scarsa oltre 80 è eccellente e Dino ci ha raccontato quanto durante tutto il 2020 di fatto la reputazione delle aziende la fiducia che là fuori gli italiani hanno nei confronti delle aziende sia cresciuta e allora spostiamoci un attimo in avanti guardiamo al primi mesi del 2021 di fatto fino a qualche giorno fa il primo trimestre 2021 e stiamo vedendo uno scenario che si conferma le aziende crescono in reputazione ma in particolare che cosa è accaduto è accaduto che sono moltiplicate per due le aziende che oggi godono di una reputazione eccellente non ci sono più aziende con reputazione scarsa sono stabili le aziende con reputazione moderata o forte ma la maggior parte dello spostamento è stato verso l'eccellenza questo ci indica anche che le aziende oggi hanno una asticella se volete un po' più alta quando si parla di reputazione aziendale un altro elemento che portiamo come elemento di comprensione di quello che di fatto sta accadendo nei primi mesi del 2020 e ce lo raccontava Dino guardando ai settori ci sono quattro settori che sono quelli che hanno un po' più trainato la crescita della reputazione delle aziende e sono il settore delle farm il settore telco il settore finanziario e naturalmente il settore dei food e all'interno di questi settori ci sono delle realtà aziendali che più di altre sono cresciute dal punto di vista reputazionale negli ultimi 12 mesi quindi fino a marzo del 2021 confermano il trend del settore ma in particolare dettano se volete la crescita di quel settore nel futuro e quindi questo ci permette anche di capire il nostro posizionamento come sta evolvendo la nostra reputazione rispetto ad aziende che stanno crescendo più o meno di noi questi sono un po' alcuni scenari che siamo in grado di guardare quando guardiamo la reputazione mensile delle aziende e questo sarà il percorso che ci accompagnerà nel futuro nel guardare alla reputazione ma nell'aiutare le aziende a comprendere cosa sta accadendo alla loro reputazione appunto come dicevo prima nel momento stesso in cui accade entriamo quindi nell'ultimo tema che tratterete insieme a me oggi e cioè quali sono gli strumenti di cui dotarsi per giocare un ruolo importante nella reputation economy un po' scherzosamente io la chiamerei la cassetta degli attrezzi di chi fa reputation management e delle aziende sono cinque gli strumenti fondamentali guardiamo il primo il primo è conoscere i propri stakeholder sapere chi sono oggi ci sono nuovi stakeholder molte aziende hanno capito che ci sono nuovi stakeholder a cui guardare però è fondamentale capire chi sono i nostri stakeholder e nel momento in cui stesso lo capiamo dobbiamo farci un'altra domanda e la domanda è quali sono quelli prioritari rispetto alla nostra strategia di business e qui due elementi vanno considerati qual è il livello di interesse dei nostri stakeholder nei confronti della nostra azienda e l'altro elemento è qual è il livello di influenza che questi stakeholder hanno nella nostra strategia nel raggiungimento dei nostri obiettivi della nostra strategia aziendale qui abbiamo fatto molteplici anni di studi lavorando con le aziende e sicuramente vi possiamo dire che in tutti i nostri studi tre stakeholder sono sempre più prioritari di altri in tutti i contesti aziendali e sono naturalmente i clienti come sempre naturalmente l'opinione pubblica è ovviamente informata che conosce le aziende e come ci raccontava Sara oggi i dipendenti sono entrati a far parte diciamo dell'Olimpo se volete degli stakeholder degli stakeholder prioritari e quindi questi sono coloro che oggi generano maggiori aspettative nei nostri confronti e che afferiscono prima alla nostra strategia di business e quindi da attenzionare prima di altri il secondo strumento da avere nella nostra cassetta è innanzitutto comprendere che la reputazione non è il fine del nostro lavoro ma è il mezzo per cui riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi di business e quindi la lettura di fatto di come usare la nostra reputazione come far generare valore grazie alla nostra reputazione parte da quelli che sono gli obiettivi aziendali in base agli obiettivi aziendali comprendo come tutti sapete quali sono le vostre capability interne la vostra realtà aziendale oggi e quindi mi doto di una lettura delle aspettative dei bisogni dei miei stakeholder per poter mettere in atto delle azioni che soddisfino quelle aspettative di fatto ridurre il gap che c'è tra la mia realtà aziendale e la percezione degli stakeholder là fuori e questo mi permetterà o permetterà alla vostra reputazione di generare il massimo del valore per raggiungere prima e raggiungere più efficacemente gli obiettivi aziendali guardiamo al terzo elemento determinante il terzo elemento è le iniziative quindi avendo identificato gli stakeholder mappati secondo la strategia devo capire quali sono le iniziative che hanno che rispondono a quelle aspettative e qui abbiamo anche visto negli anni e imparato a vedere che le aziende hanno creato iniziative che sostanzialmente si polarizzavano tra iniziative di prodotto e iniziative sociali bene oggi sappiamo bene che questa differenziazione non può più esserci si parla di purpose led dello scopo oltre ovviamente a quello che fai queste iniziative questi due elementi di business e sociale devono convergere in iniziative uniche anche per efficienza se volete legati agli stakeholder e quindi se ho identificato le iniziative necessarie allora il passo successivo non può che essere misurare misurare l'impatto di queste iniziative naturalmente noi lo facciamo e questo è un esempio concreto di un'azienda che ha misurato un'iniziativa che intrinsecamente aveva sia un impatto sociale che un impatto naturalmente di business e vedete ancora tutt'oggi ci troviamo di fronte a una conoscenza abbastanza scarsa di queste iniziative ma un impatto reputazionale significativo oltre otto punti che ritorno a dire non è il fine del nostro lavoro ma è l'impatto sui comportamenti che ci rende diciamo chiaro il ritorno di investimento di questa iniziativa altre iniziative ovviamente le mappiamo e iniziative di prodotto così come iniziative sociali hanno impatti sulla reputazione ma inferiori inferiori a iniziative che fanno convergere tutti gli elementi di cui abbiamo abbondantemente parlato prima il mio obiettivo oggi è trasferirgli il fatto che sono misurabili e soprattutto rispetto agli impatti sui comportamenti dei nostri stakeholder il quinto elemento che portiamo alla vostra attenzione è il fatto che poi alla fine stiamo parlando di multi stakeholder e quindi parliamo di multi dipartimento all'interno dell'azienda perché Sara ci raccontava l'HR che ha i suoi dipendenti come priorità insieme ai futuri talenti abbiamo parlato dei mercati finanziari degli investitori quindi con investor relation la comunicazione con i suoi stakeholder bene questo non può essere lasciato a singole funzioni aziendali ma vi è la necessità di una governance di una coerenza di approccio agli stakeholder rispetto a chi è l'azienda e quindi in modo omogeneo rivolgersi a loro e coordinare le attività e anche naturalmente gli sforzi aziendali l'ultimo strumento che è imprescindibile nella nostra cassetta delle attrezzi ormai lo diciamo da dieci anni è costruire o meglio non dimenticarsi mai di costruire familiarità di aumentare la qualità della conoscenza che i nostri stakeholder hanno della nostra azienda di quello che fa di chi è e di qual è lo scopo sociale che ha e anche questo è una conferma nel 2021 rispetto a 22 le aziende hanno migliorato la propria reputazione grazie al fatto che sono cresciute nei livelli di qualità della conoscenza nei livelli di familiarità e questo ancora una volta se fosse necessario ha impatto sul business solo due punti di familiarità sono un moltiplicatore di 5 e oltre punti di comportamento commerciale o comportamento corporate e quindi la familiarità come agire sulla familiarità le leve sono sempre le stesse i contenuti del vostro dialogo con gli stakeholder la narrativa la proposizione di valore che avete per loro e i canali con cui vi mettete in contatto con loro qui rappresentiamo le oltre 100 aziende che misuriamo a livello mensile un po' per darvi la solita bussola che ci permettiamo di darvi tutti gli anni per capire dove siete posizionati voi quali sono le leve da agire come sono posizionati i vostri competitor o la industry e questo vi permetterà di immediatamente azionare la leva della reputazione oggi per il futuro e quindi ammetto che è il compito oggi di chiudere questa mattinata insieme ricapitolando quali sono i 5 elementi più importanti che ci portiamo a casa da questa sessione il primo la reputazione non può più essere osservata in un momento nel tempo è necessario andare in profondità comprendere cosa impatta la nostra reputazione quando le cose accadono e quindi questo è determinante per gestire la propria reputazione aziendale e poi che cosa abbiamo visto abbiamo visto che gli ESG o lavorare sugli elementi di sostenibilità nell'ambito ambientale sociale e naturalmente di trasparenza ed idetica non è più un nice to have e poi ci hanno raccontato la componente tech delle aziende la velocità con cui abbiamo accelerato i processi di digitalizzazione aziendale è evidente sotto gli occhi di tutti e quindi ogni azienda deve trovare la sua componente tecnologica da far emergere per vincere nella reputation economy e poi Sara ci ha raccontato molto bene l'atteggiamento che oggi deve essere imprenditoriale la capacità di avere tutte le persone aziendali a bordo con una mentalità imprenditoriale rivolta al futuro e ultimo e non ultimo è essere delle persone umane ovviamente questo è uno dei tratti più importanti per vincere la reputation economy e con questo io vi ringrazio ringrazio in particolare Raffaele Ierusalmi sia per l'ospitalità che anche per il suo intervento insieme a Cati Ariva per averci dato i suoi spunti e a nome del team di The Reptruck Company Italia vi do una rivederci al prossimo anno grazie Grazie